Oggi presentiamo il geometra Caruso, il nostro ospite dalla Sicilia, da dove esattamente? Da Terranova di Sicilia. Cioè Gela? No, no, Terranova è il nome vecchio che non abbiamo conservato perché non accettiamo le modifiche recenti. E mi dica cosa sta lavorando, vedo che... Stiamo lavorando a un progetto molto interessante, praticamente stiamo lavorando alla diga sullo stretto di Messina. La diga? La diga, sì. A cosa serve? C'è una doppia funzione, sia da ponte tra Sicilia e Calabria, sia da separatore tra il Tirreno e il Marionio. Tirreno e Marionio? Sì, ho capito, ma a cosa serve? Soprattutto a preservare le specie ittiche. Le specie ittiche? Sì, le biodiversità, perché c'è il branzino del Tirreno, è diverso dal branzino dell'Oionio. Lasciando la porta di comunicazione aperta, i due si accoppiano e imbastardiscono la razza. Tu vai in pescheria e non riconosci più qual è il branzino del Tirreno e qual è il branzino dell'Oionio. Ed è una cosa gravissima. E poi è brutto, vedete sotto questi traghetti, questi branzini che si accoppiano, è brutto. Ci sono anche i bambini. È bruttissima ragione. Lei, oltre ad essere un geometra, è presidente dell'Associazione dei Terapiatisti, cioè di quel movimento che sostiene che la terra sia piatta. Esatto. L'associazione l'ho fondata io, siamo in otto attualmente, si accettano nuove iscrizioni, chiunque voglia condividere le nostre idee, siamo ben lieti di accoglierle. Ma sono idee non condivisibili le vostre, la terra è piatta, ma chi lo dice? Già Magellano l'ha dimostrato. Magellano l'ha dimostrato niente perché all'epoca di Magellano non c'era neanche Aglessidria, figuriamoci se questo può dimostrare che la terra è piatta. Sì, ha girato intorno, ha circunnavigato. Ha fatto un giro in barca, ora io posso andare da una parte, faccio un giro e poi dico torno, ho fatto il giro di che? Senta, ma guardi che ci sono delle foto della terra dallo spazio, che fanno vedere che spesa. Dallo spazio si vede il suo disco, ora dal disco sicuramente non si può percepire se la terra è tonda o è piatta, perché un disco può essere profondo, piatto o sferico. Ho capito, ma senta, per quale motivo dovrebbero sostenere che la terra è sferica? Ma ci sono degli interessi delle superpotenze, degli interessi, è tutto fatto apposta per vendere più armi. Come più armi? Perché se la terra è rotonda tu ti devi difendere da tutti i lati, se la terra è piatta tu ti devi difendere solo da loro, perché magari c'è una nazione che è sul confine del bordo e quindi da quel lato non può arrivare nessuno. C'è qualcuno che ci crede a queste sue ipotesi? Noi abbiamo delle dimostrazioni scientifiche da poter provare, abbiamo fatto degli studi, mica che stiamo parlando così a caso. Ora, se voi siete ignoranti e creduloni che per voi va bene tutto senza nessuna verifica, credeteci pure. Però noi possiamo dimostrare che la terra è piatta, basta prendere un livello da cantiere, collimare l'orizzonte, si vede che l'orizzonte coincide perfettamente con il lato piatto del livello. Ma no, ma scusi, deve avere una distrazione, va bene, è inutile confruttare le sue teorie. Ma avete delle iniziative che servano a sostenere le vostre ipotesi? Noi facciamo parecchie iniziative, organizziamo delle cene sociali, il piatto principale è la lumaca, perché per noi la lumaca è l'unico animale che riesce a contrastare quella che voi chiamate la forza di gravità. Ecco, la forza di gravità. La lumaca è l'unico animale che riesce a camminare sul soffitto. Poi, per esempio, prendiamo una palla da biliardo, questa è sferica, questa è una palla sferica, perché è stato dimostrato tramite degli studi scientifici di gente che è del settore che giocare a biliardo con i piattelli è impossibile. Certo, questo sicuramente, ma cosa c'entra con la sfericità della terra? Che per giocare a biliardo il tavolo da biliardo deve essere piatto. Certo. Se noi lasciamo una palla sul tavolo di biliardo, la palla sta ferma. Se il tavolo fosse sferico, come volete farci credere, la palla andrebbe da una parte o dall'altra. Ho capito. Ci sono delle iniziative alle quali accorre molta gente oppure sono deserte le iniziative che vi organizzate? No, no, noi tra parenti e amici riusciamo a raccogliere dalle 50 alle 60 persone per ogni cena. E tutti sono convinti che la terra sia piatta? O sei convinto che la terra sia piatta o non mangi. Bene, allora ringraziamo il geometra Caruso per questo suo intervento e la invitiamo anche a sostenere altre questioni di cui lei sarà sicuramente competente come il terapiatto. Grazie a voi per avermi invitato. Quando avete bisogno di altre delucidazioni, io sono qua a vostra completa disposizione. Grazie ancora. E chiudiamo con la rubrica finanziaria. Vengono proposte diverse tecniche per raddoppiare capitale, ma questa è veramente geniale. Vendo autografo di Mario Draghi a 10 euro. A stenersi per di tempo. Un prospero saluto da Clevia Sedda. Grazie a tutti.